Gentili telespettatori, buona giornata. Arriva un'assurda protesta o pretesa dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. E uno dice, ma veramente? Ma davvero? Ma davvero? Come dicevamo nel video precedente, siamo nella condizione di essere in Italia con un governo eletto dal popolo, alle elezioni in maniera democratica, un governo che sta facendo, secondo alcuni bene, secondo alcuni benissimo, secondo alcuni male, secondo alcuni malissimo, sta lavorando, ma ci sono delle critiche che risultano completamente assurde fatte dalla sinistra. Come vi ho sempre detto, una sinistra che è vuota di idee e di intenti, che non fa altro che criticare a prescindere qualsiasi azione faccia il governo o non faccia, o faccia in un modo che a loro non piace. Cos'è che dice l'Associazione Nazionale Partigiani? Così la sinistra italiana riesce a rendersi ridicola anche questa volta, c'è l'occupazione del Parlamento in Brasile e c'è chi cerca di far passare l'idea che nel governo vi sia una connivenza nei confronti di chi occupa i Parlamenti in giro per il mondo. Una teoria che sta venendo fuori nei talk show, ne parleremo, e già in diversi programmi televisivi, che si cerca di accomunare quello che è successo in Brasile con quello che potrebbe succedere anche in Italia, perché abbiamo un governo sovranista, populista e cattivo, ovviamente. E allora una teoria che arriva anche dall'Associazione Nazionale Partigiani, Lampi, che tra preoccupazioni, condanne, dicono ma insomma la Presidente del Consiglio non è intervenuta immediatamente, cioè la Presidente del Consiglio Meloni doveva intervenire in pochi secondi e scrivere subito sui social quello che pensava, invece la Meloni ha risposto, ma non immediatamente, ha cercato di capire e di vedere realmente il quadro della situazione, perché a volte si rischia, facendo dei commenti immediati, quando le situazioni sono ancora in evoluzione, si rischia poi, dopo un po' di tempo, di fare delle figuracce, perché non si sanno ancora bene i fatti. Quindi la Meloni, prima di fare delle dichiarazioni, ha aspettato di capire l'evolversi della situazione, ma secondo molti ha dichiarato in ritardo. Ma esistono dichiarazioni in ritardo? Ma colpisce che i faccinerosi dicono si dichiarano patrioti, come nel linguaggio degli eredi del fascismo, che operino con metodi squadristici. Ecco, la devastazione, ha commentato il Presidente Gianfranco Pagliarulo, aggiungendo subito dopo che le istituzioni italiane si dovevano pronunciare con la massima chiarezza, nominando i responsabili di questo, proprio additandoli come fascisti. Quindi capite che tutto il ragionamento, questa forzatura, c'è una tecnica che in molti utilizzano in maniera involontaria, e ve la racconto. Anche ieri, vi faccio un altro preambolo, anche ieri in una trasmissione televisiva sono partiti dal Brasile per finire, passando dagli Stati Uniti per finire in Italia, come dire, occupano il Parlamento in Brasile, come fecero negli Stati Uniti, sono sovranisti come quelli che abbiamo noi, quindi quelli che abbiamo noi sono come loro, e c'è pericolo per la democrazia, perché può succedere anche da noi. Quindi partono dal Brasile, nei talk show, e vanno a finire attaccando Giorgia Meloni e Salvini, dicendo che, pericolo per la democrazia, questi sono uguali, potrebbero fare la stessa cosa. Quindi nei talk show, nei programmi televisivi, gli ospiti, di sinistra ovviamente, cercano in tutti i modi di collegare fatti internazionali con l'Italia e con chi sta governando, anche se i fatti non sono per nulla collegati. Vi faccio un esempio, che è un esempio che si studia sui libri di comunicazione. Non ricordo come si chiama questa tecnica che viene utilizzata in maniera volontaria o in maniera involontaria. Vi dico questo. Il dittatore è vegetariano. Tu sei vegetariano. Tu e il dittatore siete uguali. Avete capito la tecnica? Io collego due cose che sono incollegabili. Le faccio collegare insieme, con due fatti che non c'entrano niente, per far capire che il dittatore e tu siete uguali. Il dittatore è vegetariano. Tu sei vegetariano, allora voi due siete uguali. Tu sei come il dittatore. E lì è stato fatto l'aggancio. Tu sei come il dittatore perché siete vegetariani tutti e due. Quindi, essendo vegetariani tutti e due, siete il peggio. Allora, quelli che occupano il Parlamento in Brasile sono sovranisti. Qui in Italia stanno governando i sovranisti. I sovranisti italiani sono uguali a quelli in Brasile. Quindi collegano i due fatti che sono incollegabili. Li collegano. Questa è una tecnica che molti utilizzano senza rendersi conto che ha un nome e cognome. Questa tecnica, come dicevo, non me lo ricordo. Qualche mese fa l'avevo il nome, non me lo ricordo più. Però la tecnica che vi ho spiegato è chiarissima. Pertanto, secondo Pagliarulo, che è il presidente dell'Ampi, il governo avrebbe dovuto dichiarare che in Brasile quelli che occupano il Parlamento sono fascisti. Ecco, non l'ha fatto e se non l'ha fatto si aprono molti scenari, come quello che vi dicevo prima. Sono uguali, eccetera, eccetera. Ecco, molti stanno lì a guardare la tempistica degli interventi. Allora, Salvini ha parlato alle ore X, la Meloni a quell'ora lì, mentre quello dell'opposizione l'ha detto dieci minuti prima, come se ci fosse una gara, una sorta di... Vince chi dichiara prima, no? Ecco, magari voi state dormendo. State dormendo. e immaginatevi che un politico sta dormendo perché è stanchissimo, vive magari da solo, non lo avvertono, non sa quello che sta succedendo, lo scopre la mattina dopo, finì mondo, non ha detto nulla, è compiacente, non sapeva cosa dire, la pensava uguale. Ecco, insomma. Quindi, il non commentare immediatamente può essere dato dal fatto che non ti sei accorto, non ti sei accorto, o se te l'hanno detto stavi dormendo, ti hanno mandato un WhatsApp e tu stavi dormendo, o semplicemente stai aspettando che i fatti si evolvano per dare un commento più corretto. Grazie a tutti e arrivederci a presto.